La luce di Cristo raggiunge le genti e dirà dalle tenebre di un mondo senza gioia. Nella Basilica di San Pietro, rischiarata da migliaia di candele, si è celebrata la festa della presentazione del Signore, quando cioè i giovani Maria e Giuseppe portarono il loro bambino al Tempio e avvenne il primo incontro tra Gesù e il suo popolo, rappresentato dagli anziani Simeone e Anna. Nella diciottesima giornata della vita consacrata, Papa Francesco ha spiegato che nel sì di quanti hanno abbracciato la chiamata del Signore, rivive pienamente quell'incontro tra i giovani e gli anziani, tra osservanza e profezia. Il mistero di questo incontro è animato in modo dinamico dallo Spirito, che sempre offre la gioia di camminare in una regola di vita, mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce di Dio, che parla, che apre, che conduce. Il tema della vita consacrata, alla quale è stato dedicato in modo speciale il 2015, ha guidato anche le riflessioni del Pontefice all'Angelus. Le persone consacrate, ha detto, sono segno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono lievito per la crescita di una società più giusta e fraterna, profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Ma pensate una chiesa senza le suore? No, non si può pensare. Sono questo dono, questo lievito, che portano proprio il popolo di Dio avanti. E sono grandi queste donne, che consacrano la sua vita e portano avanti il messaggio di Gesù. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di questa testimonianza dell'amore e della misericordia di Dio. Grazie. Grazie. Grazie.